Adesso invece, a quanto pare, il nostro Andrea Falcinelli è in collegamento con noi per darci delle previsioni che a quanto pare sono completamente diverse da quelle che abbiamo appena sentito. Vediamo un poco il meteo e ascoltiamolo. Già la musica è completamente diversa. Un saluto da Andrea Falcinelli del meteo. Andrea, la voce già è completamente diversa. Il cielo è sicuramente più chiaro di quello di questa notte. Potrete vedere le nuvole, ma non le stelle. Ma che ti è successo? Che cosa ovvio e inutile per piacere? Ma come mai mi hai chiamato a quest'ora per le previsioni? Di solito te le faccio la domenica mattina. Abbiamo cambiato fascia oraria e giorno, siamo in diretta. Sì, ma il meteo si prevede di mattina. Ora ho poche previsioni. Dici la verità, stavi andando a dormire? No, veramente, stavo andando a femmine per rimini. Complimenti, mi hai chiamato per il meteo. Dammi almeno qualche previsione in diretta. Vabbè, per domani forse pioggia al sud e sole al nord. Non sono sicuro, ma di certo so che domani è giovedì. Ah, grazie, grazie. Un saluto da Andrea Falcinelli del meteo.it Ma vedi un po' te, vedi un po' te, guard.